Buon stasizio, qui i migliori pugili dilettanti del mondo oggi cercano un posto per Parigi 2024. In tutti i pugili sono 608 da 113 paesi e i posti disponibili a Parigi sono solo 49. Ma io sono più forte, io vado avanti perché sono più forte e l'ho dimostrato, non solo a chiacchiere ma anche sui fatti, sul ring. Oggi dimostrano di essere più forte e a Parigi dimostrano ancora una volta di essere il migliore del mondo. Sto lavorando per questo, voglio ottenere questo e lo farò, promesso. Perdivo a Parigi la medaglia d'oro chiaramente, solo unicamente la medaglia d'oro, vado là solo per quello. Grazie. Mi ho guardato il cielo e ho detto va accompagnami. L'ho sentito ma in quel letto, cioè quando ero nella stanza ho sentito un calere forte dentro di me. L'ho detto io vado là e vinto, come gli dicevo sempre. Babbo vado là e vinto perché dobbiamo seguire su quel rito e dovrò andare a vincere. E così è stato. Credo tanto in Dio, credo tanto che mio padre esiste ed è dentro di me. Perché babbo qualsiasi cosa succede. Sto sempre con te. Vincere le Olimpiadi solo per mio padre, solo per mio padre.